Buongiorno, benvenuti. Buon inizio di settimana a tutti, lunedì 20 marzo 2017, oggi si ricorda San Francesca di Amiso, la nostra consueta rassegna stampa del lunedì che si apre come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani. Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara per andare a vedere quali sono i titoli degli argomenti all'interno del giornale. Si parla di commercio nella prima pagina del centro perché c'è la proposta di aprire i negozi nel giorno festivo della domenica. Apriamo i negozi la domenica, questo è il titolo principale. Troppe attività chiuse a Pescara, la ricetta delle associazioni contro la crisi. Poi la foto che riguarda il calcio, come ogni lunedì si parla di sport, lo faremo anche noi in maniera ampia e dettagliata nella seconda parte di Mattino 6. Con il Pescara in questo caso che colleziona disastri, gara senza storia al comunale di Bergamo, all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, con i Biancazzurri sconfitti per 3-0. L'Atalanta vince senza faticare, poi vedremo il servizio per il Pescara. A questo punto manca purtroppo solo la matematica per decretare la retrocessione in Serie B. E poi nelle cronache politica Blasioli scioglie la riserva, farò il vice sindaco, dunque nelle prossime ore ci sarà l'ufficialità dell'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale che dovrà prendere il posto di Blasioli che invece diventerà vice sindaco perché come molti di voi sapranno Enzo Del Vecchio, ancora attualmente vice sindaco numero 2 della giunta Alessandrini, andrà a lavorare in regione nello staff del presidente Luciano D'Alfonso. E poi la notizia delle ultime ore che ha scosso un po' tutti a Pescara, pugile donna in coma. Pescara prega per Francesca, questa 25enne veneta, che aveva accusato un malore dopo un combattimento sul ring, di una manifestazione che si è svolta a Chieti. Vedremo poi all'interno dei quotidiani il dettaglio di questa notizia. E poi in basso si parla di matrimoni del Tribunale Ecclesiastico e del caso Abruzzo in particolare perché cresce la voglia di annullamento e tempi più celeri dopo la riforma voluta da Papa Francesco. Infine una notizia che riguarda San Giovanni Teatino perché arriva Albano, il noto cantante pugliese, e i fan vanno in delirio. In alto ritroviamo un'altra notizia importante, molto importante, che riguarda Sulmona, Ovidio, perché per il bimellenario del poeta Ovidiano Sulmonese, il 6 aprile, proprio nella città Peligna, arriverà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lasciamo la prima pagina del centro edizione di Pescara, siamo a quella di Chieti e qui ritroviamo a tutta pagina il titolo su questa vicenda. Francesca lotta contro la morte in coma dopo i pugni sul ring, la madre della pugile, dice è forte, ce la farà. E poi il girotondo salva Chiesa, fedeli mano nella mano a San Salvo, dicono no alla demolizione. Nelle cronache Chieti, Caso Dorazio, no delle figlie all'archiviazione. E poi basket Serie A2, Proger Sciupona perde il derby con il Roseto. Andiamo avanti, prima pagina del centro edizione di Teramo e il titolo principale riguarda questa volta proprio il Teramo Calcio che risorge a suon di gol, sei reti al gubbio per sperare nella salvezza. Ma i tifosi si spaccano perché nelle ore precedenti della partita c'erano state delle contestazioni da parte dei supporters biancorossi nei confronti soprattutto della società. E poi l'altro titolo con corredo di foto a centro pagina riguarda ancora lo sport, il basket in questo caso, perché Roseto fa festa nel derby battendo dopo due tempi supplementari, la Proger Chieti. Vediamo le cronache, decreto terremoto Brucchi pronti a scendere ancora in piazza, parla il primo cittadino di Teramo. E poi ipotesi ritorsione, gomme tagliate alle auto dei sub giuliesi. Questi titoli principali dell'edizione di Teramo del centro. Chiudiamo per quanto riguarda il centro con l'edizione dell'Aquila. Pochi spazi rivolta al liceo musicale, l'Aquila convivenza forzata con il linguistico appello alla preside. Poi il doppio richiamo di sport con due foto, rugby e calcio festa doppia. I neroverdi, siamo al rugby, balzano al comando. I rosso-blu fanno il colpo a Sansepolcro e si tirano un po' su in classifica dopo le tante polemiche, le contestazioni. Le cronache avezzano, neurochirurgia, il medico arriva solo in estate. Sul Mona invece parchi gioco, il comune corre ai ripari. Vediamo anche la prima pagina del messaggero. Francesca è forte, ce la farà Chieti, operata al cervello la ragazza in coma dopo l'incontro di box. La madre spera l'avversaria con cui ha combattuto, dice solo colpi puliti. Rapporto dei carabinieri al PM. In alto lo sport, il Pescara ci prova ma prende tre sberle. Biancazzurri battuti anche dall'Atalanta, la Serie B sempre più vicina. Poi Lega Pro, Teramo 6 gol al Gubbio per risalire. Basket Serie A2, Sharks Roseto successo dopo due overtime contro la Progere. Poi Porti, vedete questo articolo di spalla. Grimaldi lascia vasto, meglio lo scalo di Ortona. In alto altri titoli che riguardano la cronaca della nostra regione. Frane, Asso Turismo dice piano di rilancio per i borghi del Terramano. E poi Avezzano, elettrodotto bocciato dal Tar e Battaglia per abbatterlo. E poi a Pescara, Comune Blasioli dice di sì, lo faccio per la città. E poi andiamo più in basso per spostarci all'Aquila con questa intervista, questo articolo che riguarda il vice sindaco Nicola Trifoggi, ex PM di Pescara, che dice dossier per screditarmi. Il vice sindaco parla della sua candidatura e delle indagini. Lasciamo la prima pagina anche dell'inserto Abruzzo del messaggero. Possiamo andare a vedere tra qualche istante invece a questo punto i titoli. Dunque l'edicola nazionale, i titoli dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Partiamo come spesso accade con il Corriere della Sera. Libia, i segreti dell'accordo. Tripoli vuole 20 navi più 4 elicotteri dall'Italia. Sbarchi raddoppiati dal 2016. E poi Mattarella all'Ocri, questo titolo che vediamo a centro pagina. Mafia senza onore, via le zone grigie. Proseguiamo. La Repubblica mamme, il bonus sparito. Su Minzolini in scontro invece nel Partito Democratico. E poi in alto si parla di elezioni in Germania. Parla Schulz che dice ora batterò Merkel. Erdogan minaccia invece Berlino. E poi Mattarella sfida i mafiosi. Sono uomini senza onore, ha detto il Presidente della Repubblica. Siamo al messaggero migranti. L'accordo in bilico, oggi il vertice a Roma fra Europa, Libia e Tunisia per la firma dell'intesa sul blocco degli arrivi. Ma l'equilibrio precario di Tripoli al centro di nuovi scontri mette in forza la tenuta degli impegni. E poi anche in questo caso sul messaggero si parla delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dice la mafia non ha onore a zerare le zone di complicità. E poi sul messaggero di Roma si parla di Roma e Lazio. In questo caso delle partite di ieri nel massimo campionato. La Roma non si ferma. Batte 3 a 1 il sassuolo di Eusebio Di Francesco. La Lazio spreca un'occasione per l'Europa. Pareggiando per 0 a 0 a Cagliari. Il mattino di Napoli. Mafia sferzata di Mattarella. Troppe zone grigie di corruzione. In alto il calcio. Tre punti con brivido. L'allarme di Amsic. Napoli che passa ad Empoli. Al Castellani per 3 a 2. Poi in basso una foto che sta facendo il Giro d'Italia. Pestato dai bulli. La foto shock è virale. Valanga di like per il padre del ragazzo che è stato picchiato da alcuni bulli. Siamo al Fatto Quotidiano. Questa legge salva i corrotti. Il PM ardita di DL penale. Meno intercettazioni. Più prescrizioni e processi bloccati. Dice il PM. E poi in alto. Visco. Noi vecchi. I presunti giovani. Fanno solo disastri. L'intervista. Dunque a Visco che parla appunto di giovani e vecchi della politica. Ma non solo. Andiamo avanti. Siamo al giornale. Gli immigrati invadono anche i tribunali. 50.000 ricorsi. Giustizia paralizzata dai migranti. Gli italiani restano in coda. L'allarme del giudice. Siamo al collasso. E poi di spalla verso le elezioni. Parla Salvini. Leader della Lega che riapre. In questo caso si ha una federazione con Forza Italia. Il Tempo. Le invasioni barbariche. Allarme sicurezza. Già nella capitale. I Black Bloc che hanno dichiarato guerriglia per sabato. Quando ci sarà una manifestazione per ricordare la fondazione dell'Unione Europea. 5 manifestazioni. 2 sit-in. Zone Cuscinetto. Centro blindato. Si salvi chi può. Dice il Tempo. E poi anche qui come sul messaggero quotidiano romano che parla delle due formazioni capitoline. Dopo la giornata di ieri nel massimo campionato di calcio. La Roma si risveglia. La Lazio addormentata. La stampa di Torino. Gentiloni. Ora avanti le riforme contro lo stallo. Lo dice il Presidente del Consiglio. E poi lo sport. In questo caso lo sci. E si parla della tripletta. Della valanga rosa. Siamo a libero. Trump ammazza l'Isis. Il Presidente americano dopo l'insediamento annunciò. In sei mesi distruggeremo il califato. Ne sono passati solo due. Le truppe alleate stanno per liberare la moschea di Mosul in Iraq. Dove fu proclamato lo Stato islamico. E poi c'è un'intervista a Passera che dice l'Unione Europea sbaglia ricetta. L'Italia si salva così. Sole 24 ore. Pensioni. Caccia all'anticipo. Aspettando il debutto dell'Ape. E poi il foglio. L'estinzione dell'Italia. Il quotidiano politico parla in questo articolo a tutta pagina proprio di quello che sarà il futuro del nostro paese. Facciamo finta di nulla ma nel 2016 il numero di bimbi, leggiamo un attimo, non nati, ha raggiunto le dimensioni di una città come Monza. Perché l'Italia non fa più figli? Si chiede il quotidiano, il foglio. E poi il gazzettino di Venezia. Profughi intesa con la Libia a rischio. Vacilla il piano Minniti per ridurre i flussi. Il secolo XIX. Il quotidiano di Genova. Lavoro e costi così peseranno in busta paga. Obiettivo taglio al cuneo fiscale. Le ipotesi sul tavolo del governo. In questo caso sul quotidiano genovese si parla delle squadre di Genova con una buona Sampdoria che però non rovescia il pronostico e perde con la Juventus per il Genova sabato sera. C'era stato l'anticipo negativo con il Milan. Genova battuto a San Siro per 1 a 0. Gazzetta del Mezzogiorno. Una speranza anti-xilella individuata in laboratorio. Una specie resistente al battelio killer. Si chiama favolosa e sconfigge. La fastidiosa ottimismo che arriva dal CNR. E la Gazzetta del Mezzogiorno è l'ultimo quotidiano nazionale che prendiamo in esame. A proposito di quotidiani nazionali, prima di parlare in maniera dettagliata nella seconda parte di sport, andiamo a vedere i titoli dei quotidiani sportivi. Oggi in edicola perché ovviamente il lunedì è dedicato come di consueto allo sport. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Juve quadra tutto. Vittoria con il rischio in casa Sampdoria. Il vantaggio resta di 8 punti. Juve quadra tutto perché il gol vittoria dei bianconeri è stato segnato. Da quadrado e poi vedete a centro pagina c'è un articolo, un richiamo più che altro, che riguarda proprio l'Atalanta che ha battuto ieri il Pescara. L'Atalanta riparte. Petagna in azzurro. Vittoria con il Pescara per 3 a 0. Doppietta di Papu Gomez. Come detto, vedremo più avanti il servizio su questa partita giocata ieri a Bergamo. In alto, ancora restando alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, si parla di sci, giganti d'Italia, Brignone, Goggia e Bassino. Tripletta. Siamo al Corriere dello Sport. Juve spaziale. Ammarassi vittoria numero 24 in Europa. Nessuno come Allegri. Media di 2.52 punti a partita. Meglio di Bayern, Chelsea e Real Madrid. E poi vediamo gli altri titoli. Grinta Roma rimonta e resta a meno 8. E poi parla il tecnico del Napoli, Maurizio Sari, dopo la vittoria dei partenopei ad Empoli per 3 a 2. Giocare alle 12.30, ha detto il tecnico partenopeo, senza tanti giri di parole. Mi fa schifo. E siamo a tutto sport. L'uovo di Colombia. Quadrado stende la Sampdoria. Juve Scudetto più vicino. E poi si parla del Torino sul quotidiano che ovviamente tratta tutto sport, come molti di voi sapranno, in maniera particolare e con particolare attenzione segue le squadre torinesi. Torino con l'Inter è riesploso l'entusiasmo. Ma gli Aic, questo è il punto di domanda. Lasciamo dunque anche le prime pagine dei quotidiani sportivi. Possiamo tornare a questo punto a vedere invece i quotidiani di casa nostra. Possiamo ripartire dal centro per andare a vedere le pagine interne del giornale Oggi Nedicola. Partiamo dalla seconda pagina del centro per parlare di matrimoni e del resoconto dei risultati del Tribunale Ecclesiastico. La diocesi di Chietivasto è quella in cui si registra il maggior numero di scioglimenti con 36 sentenze pronunciate. Così in Abruzzo aumentano le cause di annullamento del sacro vincolo. Se il matrimonio va in crisi, grazie a Dio ti lascio. Questo è il titolo proprio sull'aumento di annullamenti di matrimoni, come testimoniano anche i numeri diffusi dal Tribunale Ecclesiastico di Chieti. Proseguiamo. Si parla in questo caso ancora di matrimoni. Ci sono anche delle testimonianze proprio su come si possa, in questo caso, parlando di matrimonio religioso, arrivare all'allunamento. E poi, uniti per la legalità, l'appello di Mattarella insieme contro le mafia. Ha parlato il Presidente della Repubblica, proprio della lotta alle mafie nel nostro paese. Poi andiamo ancora avanti. Arriviamo a questa notizia che non riguarda l'Abruzzo, ma che sta facendo il giro d'Italia non solo. Bullismo, la photoshop è diventata virale. Identificato il branco, Napoli, cinque aggressori del bambino picchiato, hanno meno di 14 anni, oltre 270 mila condivisioni per il post sul figlio picchiato. E siamo alle pagine dell'Abruzzo, sempre dal quotidiano Il Centro. Scogliere fai da te, la regione ci ripensa, modificata l'ordinanza balneare del 2017, barriere provvisorie nel rispetto delle norme sul demanio marittimo. Andiamo ancora avanti. Per arrivare alla cronaca di Pescara, la crisi del commercio. Troppi negozi chiudono, ora apriamo la domenica. Le associazioni chiedono aiuto al Comune. Ecco il piano per contrastare gli Iper e i centri. Commerciali, in basso, scazzottata durante la Movida, Piazza Musi, lite in piena notte, ma all'arrivo della Polizia scatta il Fuggi-Fuggi. E poi il declino di Viale Kennedy, una catena di locali vuoti. Macelleria, pescheria, profumeria, agenzia di viaggi, saracinesche, abbassate dunque, crisi del commercio. Anche nella centrale Viale Kennedy, in basso, in fiamme, baracca in Via Raiale, la rimessa conteneva vecchi elettrodomestici. Rogo spento dai vigili del fuoco. E poi la politica. Ritroviamo l'articolo del richiamo in prima pagina del Centro, edizione di Pescara, perché Antonio Blasioli accetta la sfida. Sì, farò il vice sindaco, il presidente del Consiglio Comunale annuncia, lo ha fatto ieri su Facebook, che prenderà il posto di Del Vecchio. Ma resta da decidere chi sarà il suo successore alla presidenza del Consiglio Comunale ed il Partito Democratico. Si divide e poi cerimonia alle 10, questa mattina a Pescara, perché apre il parcheggio in Via Fonte Romana, a due passi dall'ospedale civile. E poi chiude il bar del carcere, indetto allo stato di agitazione, la protesta della Will. Andiamo ancora avanti. Semaforo trappola a Montesilvano, 11.500 multe in quattro mesi. Si tratta di un vero e proprio record. E poi tennis, ciclismo e fitness, grande sport a Francavilla. Presentato il calendario degli eventi. E poi proprio a Francavilla, Francavilla il lutto, perché è scomparsa la mamma del sindaco Antonio Luciani, Laura De Medio. Oggi si terranno i funerali, ovviamente, anche dalla nostra redazione. Le più sentite condoglianze al primo cittadino di Francavilla, Antonio Luciani, che più volte abbiamo ascoltato, portato ai nostri microfoni. Andiamo ancora avanti. Incontro con il cantante da tutto Abruzzo per Albano. Se il nostro mito, centinaia di fan abbracciano l'artista pugliese all'Ipercop, firma autografi su foto e cd. Poi accusa anche un lieve malore, tanta folla, avete visto anche dalle foto, per Albano in Abruzzo. E poi siamo alla vicenda della ragazza in coma dopo i pugni, dopo questo incontro di pugilato. La mamma della pugile dice, lei è forte, si salverà dramma sul ring, il primario di rianimazione dell'ospedale civile di Pescara, dove è ricoverata Tullio Spina, parla di condizioni critiche. E poi l'allenatore racconta, detto che sentiva le gambe tremare in basso sul ring, il rischio non ha sesso per la Moroni. È solo fatalità, parla una pioniera del pugilato femminile italiano, Maria Moroni, che dice sul ring, appunto, il rischio non ha sesso. E poi l'Abruzzo e Severna, tutto regolare. L'augurio ovviamente che questa giovane possa farcela, soprattutto che le sue condizioni possano migliorare, proprio nelle ultime ore. C'è un moderato ottimismo. Siamo alla pagina del centro, sempre alla pagina dell'Aquila, sempre dal centro. Si parla di sanità, da Vezzano, sanità rilento, in particolare neurochirurgia. Il medico arriva d'estate, il professionista avrebbe ottenuto l'idoneità, ma non viene messo in servizio. E tarda la riapertura del reparto. E poi parliamo dell'ospedale di Tagliacozzo. I Cinque Stelle dicono che la struttura sanitaria deve essere messa in sicurezza. A Morino, maestra, lascia la sua eredità per due borse di studio. Mentre c'è stato un salvataggio ieri sul Gran Sasso, sono recuperati due escursionisti, la coppia issata a bordo di un elicottero, dei vigili del fuoco. E a Pratola, la candidata in fiamma alla platea, Alessandra Tomassilli, in corsa per la portrona di sindaco, strappa applausi al teatro. E poi, niente neve ma strade chiuse, isolato il santuario della Ienca, in provincia dell'Aquila, e scatta la protesta. Siamo alla pagina di Terramo del centro, terremoto e istituzioni, Brucchi pronti a tornare in piazza, dice il primo cittadino, dopo la manifestazione che c'era stata nei giorni scorsi, sempre nella Capitane. E Basciano e Penna, perché siamo stati esclusi dal cratere? Dunque i due centri in provincia di Terramo protestano proprio per l'esclusione dal cratere. del terremoto, in basso, Parolisi dal carcere, voglio vedere mia figlia, l'appello dell'ex caporal maggiore che sconta 20 anni per l'omicidio della moglie, Melania Rea. Siamo arrivate alle pagine degli spettacoli, della cultura e poi dello sport, dunque possiamo spostarci al messaggero per andare a vedere i titoli dell'inserto Abruzzo, più che i titoli anche le pagine dalle province. Poi, come detto, nella seconda parte parleremo in maniera dettagliata di sport, vedremo nell'ordine i servizi che riguardano la partita del Pescara ieri all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, vedremo il servizio sulla vittoria con punteggio tennistico del Terramo con il Gubbio, andremo a vedere anche i servizi, come sempre, ogni lunedì i servizi sulle partite delle squadre abruzzesi di Serie D. Ma andiamo per ordine, torniamo al messaggero per vedere le pagine delle cronache dalle nostre province. Ripartiamo da Pescara, sarò vice sindaco per amore della mia città. Antonio Blasioli scioglie le riserve e dà l'annuncio su Facebook, scontro nel Partito Democratico sul candidato alla presidenza del Consiglio. E poi, dragaggio lento, la rabbia degli operatori portuali, lavori fermi, perso un altro anno, hanno già scritto all'autorità di Ancona per sollecitare gli interventi nella Darsena. E poi in basso, Knot High Game, sotto Torchio, i due ventenni, arrestati sabato dalla polizia per delle aggressioni commesse nel centro storico a Pescara Vecchia. E siamo alla pagina dell'Aquila, l'antica conceria alla Rivera, stazione della pista ciclabile. La struttura ospiterà anche un pub ed un piccolo ostello da 40 posti letto. E poi l'articolo di spalla il caso con il vice sindaco, Nicola Trifoggi, che va al contrattacco e dice che vogliono cercare di maciullarmi, dice l'ex PM di Pescara. E poi la ricostruzione genio civile, arrivano quattro nuovi ingegneri da Abruzzo Engineering. E poi in basso, accoppito, aggredisce la convivente denunciato, un 47enne. Siamo alla pagina di Avezzano sul Mona, tra lì ci abbandonati insorge il comitato. Protestano gli abitanti della zona dello Scalgazagallo, che hanno vinto tutte le battaglie, prima davanti al Tribunale Civile e poi davanti al Tar. E restiamo ad Avezzano, poco personale, centro trasfusioni, a rischio chiusura. E a San Benedetto dei Marsi, spaccio di cocaina, arrestato un giovane romeno. Andiamo a centro pagina, ci spostiamo nella zona in Valle Peligna, partiamo da Pratola. Elezioni, ecco la candidata Tomassilli, che come abbiamo visto anche dalle pagine del centro, ha raccolto grandi applausi nell'incontro di ieri con i cittadini. E poi a Scanno, botta e risposta tra Spacone e Gentile. E poi in basso, sul Mona, fuga di Equitalia, insorgono i professionisti. Siamo alla pagina di Chieti, dal messaggero Box, la mamma di Francesca, lei è forte, di sicuro ce la farà l'amoro, 25 anni, in coma a Pescara. I medici sono moderatamente ottimisti, il responsabile tecnico del torneo dice match svolto in assoluta regolarità. E poi l'avversaria, da me solo colpi puliti, niente scorrettezze, era molto attiva, sinceramente non sembrava stesse male. E poi cambiando argomento, Camera di Commercio a Liceo Gonzaga, le insidie del web presentata questa iniziativa della Camera di Commercio di Chieti. Andiamo in basso, per spostarci prima a Vasto e poi a Lanciano. Vasto, un ospedale moribondo, il libro bianco di Giuseppe Tagliente. E poi nella città frentana a Lanciano, piste ciclabili, il comune. Raddoppia, pagina di Teramo del messaggero, un grande piano di rilancio per i nostri borghi storici. Solidarietà con Ponzano, dopo il successo politico del governatore. Civitella è una località che fa gola, parte collaborazione con la Pilchiton e dunque si parla del borgo di Civitella del Tronto. Questi centri del Terramano stanno cercando di superare proprio il momento critico dopo l'ondata di maltempo. Anche le scosse di terremoto che hanno interessato diverse zone della nostra regione. Poi a Giulianova, andiamo noi in Senegal a bloccare l'emigrazione, il colibri creerà pozzi d'acqua ed una scuola di mestieri nel paese del Centrafrica. Ancora Giulianova, nuovo atto di pignoramento, il comune deve ancora pagare. Spostiamoci ad Albadriati, Calbanese nascondeva un etto di cocaina, è stato scoperto dalle forze dell'ordine. In basso di Sabatino esita sulla giunta 9 Campana, rilancia i delegati, si parla del rimpasto in comune a Teramo, tra l'altro dopo le dimissioni dell'ormai ex assessore Lucantoni. Infine Silvi Schianto sul lungomare, anziana in gravi condizioni. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport e possiamo dunque fermarci per qualche istante e andare a vedere anche le previsioni del tempo del nostro Luca Mennella. Poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 per parlare di sport, di calcio, di basket e anche di altre discipline sportive. Seconda parte di mattino 6, dunque siamo allo sport dopo aver visto nella prima parte un assaggio con i titoli dei tre quotidiani sportivi nazionali. Ora parliamo di sport regionale, partiamo ovviamente dal Pescara, dal massimo campionato di calcio, dalla Serie A, dall'ennesima battuta dal resto dei biancazzurri sconfitti per 3-0 ieri all'Atleti Azzurri d'Italia dall'Atalanta. Siamo alle pagine del Messaggero Pescara, altre tre sberle, titola il Messaggero. Non basta la generosità ai biancazzurri per uscire indenni dal campo dell'Atalanta che si impone per 3-0. E poi le interviste del 91esimo, interviste che abbiamo realizzato anche noi ovviamente ieri nella città Lombarda. Cerri, attaccante biancazzurro sicuro, non abbiamo un problema di forma fisica. In basso, emozione Coulibaly, sento la fiducia del tecnico, ha detto il giocatore senegalese, all'esordio assoluto con la maglia del Pescara. E poi Zeman, che è in conferenza stampa, ha poi aggiunto, continuiamo a farci gol da soli. In basso, Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ma indimenticato giocatore del Pescara di Giovanni Galeone. Era la reazione che mi aspettavo. Andiamo a vedere dalle pagine del centro come il quotidiano abruzzese titola. Parla proprio della gara giocata dai biancazzurri proprio ieri in Etlera Lombarda, tra l'altro allo stadio di Bergamo. C'erano quasi 18.000 spettatori, stadio quasi pieno per questa partita con il Pescara. Pescara senza orgoglio verso la Serie B. Un'altra prova a Scialba e l'Atalanta a Fatrice. Zeman, tanti regali, non si può giocare così, dice il tecnico biancazzurro. Calvario infinito, encefalogramma piatto, poca voglia di lottare per una squadra già rassegnata al destino del ritorno in Serie B. Ora c'è la sosta. Poi il Milan in casa, lo stadio adriatico, svogliato e molle. Pescara disastroso. Il titolo del centro, la delusione del pubblico. Sebastiani non c'è, ma i tifosi lo contestano con uno striscione. E poi, Zampano, quanti errori? Vediamo i voti dati dal quotidiano il centro ai giocatori del Pescara. Bizzarri sei, ma ieri Bizzarri è stato autore di grandissime parate. Se il risultato non è stato ancora più rotondo per la formazione lombarda, lo si deve al portiere argentino, che è vero che ha incassato tre reti, ma ne ha evitate almeno quattro con delle parate miracolose. Dunque, un voto che probabilmente, almeno a nostro giudizio, doveva essere superiore per il portiere biancazzurro. Dunque, Bizzarri sei, Zampano quattro e mezzo, Bovo sei, Coda cinque e mezzo, Biraghi cinque e mezzo, Verre cinque, Montari cinque, Memusciai cinque e mezzo, Crescenzi cinque e mezzo, Cerri cinque, Benali cinque, Mamadou senza voto in campo dal venticinquesimo del secondo tempo, ma autore di alcune buone giocate. Poi Castanos senza voto e Baybec senza voto in campo è tornato anche l'ex giocatore del Paris Saint-Germain. E poi Zeman, così è dura, ci facciamo gol da soli, il tecnico deluso per la quarta sconfitta. E poi in basso, Cerri, loro superiori fisicamente, Coulibaly, felice per l'esordio in Serie A. E noi, dopo aver letto i titoli sulla sconfitta del Pescara dai quotidiani abruzzesi, possiamo andare a vedere il servizio realizzato ieri all'Atleti Azzurri d'Italia. Adalanta batte Pescara 3 a 0. Nulla da fare anche da Bergamo, il Pescara torna in Abruzzo a mani vuote e saluta, anche se non matematicamente, la massima serie. Solito copione per la squadra di Zdenek-Zeman che fa poco e male al cospetto della rivelazione del torneo Atalanta, confermando così i limiti ormai noti. Sarà a questo punto davvero il caso di iniziare a pensare alla prossima stagione. Per programmare un torneo di vertice si comincia in un pomeriggio caldo di fronte a 18.000 spettatori, fra cui un centinaio di supporters abruzzesi sistemati nel settore di Curva Sud. Fra i padroni di casa fuori Conti, Dramè, Beriscia e Kurtic causa squalifica, Biancazzurri privi di Vitturini, Pepe e Caprari, l'ex standard, oltre a Gilardino e Bruno, fermato dal giudice sportivo per una giornata recuperati almeno per la panchina Campagnaro e Bebec. Al sesto l'Atlantino Gomez se ne va in contropiede sulla sinistra, entra in area, conclude di potenza trovando la respinta con i pugni di Bizzarri. Gomez è il più reattivo nei primi minuti al 14esimo, trova così il gol con un tiro violentissimo dall'interno dell'area di rigore che non lascia scampo all'estremo Biancazzurro. Solito reframe per il Pescara che soffre l'aggressività degli Orobici decisi a far dimenticare ai tifosi il 7-1 subito in casa dell'Inter. Al 17esimo splendida rovesciata di Toloi in area adriatica con il miracolo di Bizzarri che salva in angolo. I ragazzi di Zeman cercano di fare massa nella metà campo nera azzurra ma l'Atalanta lascia davvero pochi spazi e Biancazzurri. Alla mezz'ora ci prova l'ex Ascolano Petagna che con un missile da 18 metri non inquadra di poco lo specchio della porta di Bizzarri. Nei minuti finali del primo tempo il Pescara si propone con maggiore frequenza in avanti senza però impensierire l'estremo atalantino. Nel secondo tempo si ricomincia con gli stessi 22 d'inizio gara e l'Atalanta l'attacco. Al quarto di Eurobici hanno l'occasione per il raddoppio ma Grassi dice no Bizzarri con una super parata. La squadra di Zeman resta così in partita anche se l'inerzia del match è sempre la stessa con i locali a menare le danze. Alla diciottesimo doppia sostituzione di Gasperini che manda in campo Paloschi e Chessi per Petagna e Cristante. Cambia poco nello schieramento dei locali che continuano a fare la partita. Alla ventesimo ci prova Atebor per i locali ma la sua conclusione non impensierisce Bizzarri. Dirigra allunga il migliore fra i suoi. Alla ventitresimo però il portiere Biancazzurro non può nulla sul raddoppio di Grassi che in area su perfetto servizio di Gomez mette alle spalle dell'estremo Biancazzurro. Subito dopo esordio assoluto nella pescara del diciottenne centrocarpista senegalese Mamadou Colivali. Prende il posto di un'impalpabile Verre. Gara all'Atleti Azzurri d'Italia già praticamente chiusa. La squadra con la squadra di Gasperini che non paga delle 2-0 continua a spingere alla ricerca del Tris. Alla trentaquattresimo c'è però un lampo di Benali che in area Atalantina fa tutto bene prima della conclusione deviata in calcio d'angolo. Il finale della sfida fra Biancazzurri e Nerazzurri vede l'ingresso in campo di Castanos e Bebec per Memuscia e Crescenzi. Prima degli ultimi giri di lancette con l'Atalanta che colpisce al trentasettesimo una traversa con Paloschi e con il Pescara che con bovo di testa al quarantaquattresimo crea un brivido a Gollini prima del Tris firmato dallo scatenato Gomez. La gara finisce con il risultato di 3-0 per l'Atalanta con il Pescara che esce dal campo ancora sonoramente battuto. Ora la sosta del campionato e poi di nuovo in campo all'Adriatico il 2 aprile per la gara con il Milan del Mai come questa volta rimpianto Gianluca Lapadula. Il 2 aprile allo stadio Adriatico dopo la sosta di domenica prossima ci sarà proprio la formazione rossonera di Montella con il ritorno a Pescara per la prima volta da avversario del bomber che lo scorso anno con trenta reti portò, trascinò il Pescara alla promozione in Serie A chissà se giocherà la Padula considerando i rientri dopo la squalifica di alcuni giocatori che avevano saltato la gara con il Genoa in particolare di Bacca che dovrebbe giocare al centro dell'attacco della formazione milanese. Siamo al Teramo, goleada sorpresa, Teramo troppa grazia, fa sei gol al gubbio e guadagna sul rivali, partita chiusa al trentatresimo con il gol del 3-0. Tutti in silenzio stampa e poi la pizza, casa del presidente, questo il dopogara per i biancorossi, tifoseria spaccata tra pro e contro Campitelli. E poi andiamo a vedere, possiamo andare a vedere anche dalle pagine del messaggero qual è il commento a questa vittoria davvero altisonante del Teramo. Teramo che, lo ricordiamo, era stato contestato dai tifosi poche ore prima la partita di ieri sera allo stadio Bonolis. Queste contestazioni che avevano toccato, avevano riguardato soprattutto la dirigenza, in particolare il direttore generale Scacchioli, proprio il patron Campitelli. Ieri c'è stata questa risposta sicuramente importante del Teramo. Teramo-Gubbio 6-0, Teramo sei gol per risalire, i biancorossi ritrovano la verve smarrita e liquidano il Gubbio. L'Ancona resta ultima, Ancona battuta in casa dal Pordenone. Fischi in curva, applausi dagli altri per Campitelli, dunque tifosi divisi sugli spalti. E dopo la contestazione di sabato di cui vi stavo parlando, la squadra al termine della gara di ieri ha salutato solo i tifosi in tribuna. E noi possiamo andare a vedere così il servizio su questa goleada dei biancorossi nelle parole di Jacopo Forcella. Il Teramo fa un sol boccone di quella che a questo punto diventa la sua squadra preferita, il Gubbio. La sestina vincente che in biancorossi calano al Bonolis e sono sei schiaffi alla crisi di risultati che attanagnava il diavolo, secco di vittorie dal recupero col Pordenone. E nel pomeriggio in cui inizia il silenzio stampa generale di squadra e società, il Teramo fa la voce grossa sul campo e ci mette poco a mettere in ghiaccio la partita. Caidi due volte e Sanzovini, che avrebbe potuto anche lui freggiarsi dalla doppietta personale, mettono in discesa un incontro temuto alla vigilia, soprattutto per la tranquillità con cui la squadra di Maggi arrivava in Abruzzo. Ma evidentemente anche i risultati del pomeriggio spingono i biancorossi ad una prova d'orgoglio, che non si ferma neppure quando Volpe, dagli 11 metri, ferma il secondo rigore di giornata, calciato dall'ex attaccante del Pescara. Tutto facile, dunque, per la formazione di Ugolotti, che trova il tris con Caidi e sfrutta anche il doppio giallo a Zanchi, che lascia i suoi in dieci per mettere sul campo tutta la rabbia repressa di un campionato difficile a tratti paradossale. 11 gol in due gare, il Gubbio se le ricorderà per parecchio tempo e nel dominio dei 90 minuti c'è spazio anche per il ritorno al gol di Alessandro Di Valantonio, che con colpo da biliardo in fila Volpe per l'ennesima volta e rasserena la serata del pubblico a corso al Bonolis, che vede ancora i fantasmi della bassa classifica, questo è chiaro, ma che può guardare, anche con relativa fiducia, ad un campionato ancora tutto da giocare, con un obiettivo salvezza che varrebbe come una vittoria di torneo. Assegno anche Speranza, di testa da corner, poi l'autorete di Marini per chiudere il set, e ci sarebbe spazio anche per qualcosina in più a livello di punteggio, se solo Barbuti, Carraro e Baccolo entrati in corso d'opera avessero la stessa mira dei compagni di squadra. Alla fine i tre punti danno quell'ossigeno che mancava da tanto tempo, specie dopo le ultime prove in colori, la contestazione e l'insoddisfazione della piazza restano, questo è evidente, ma da ora il Teramo può sognare un aggancio alla salvezza, diretta o con i play-out, sapendo di avere le potenzialità, seppur inespresse, di poter battere quasi chiunque. Avete visto nel servizio questi sei gol del Teramo, rigore fallito da Sanzovini, le altre occasioni mancate dagli avanti biancorossi, poteva davvero finire con un risultato incredibile la gara di ieri fra Teramo e Gubbio, come ricordava giustamente Jacopo Forcella nel servizio, Teramo tra andata e ritorno ha segnato alla formazione Umbra ben 11 reti, magari ci fosse sempre il Gubbio, è il caso di dire come avversario. Siamo alla Serie D, prima di aver ricordato che domenica prossima ci sarà un'altra gara fondamentale per il Teramo che giocherà in casa del Mantua, formazione che è impelagata nella zona bassa della classifica, dunque uno scontro diretto che i biancorossi dovranno cercare di non fallire. E dicevo, siamo alla Serie D, siamo sul messaggero, l'Aquila tre punti dopo le polemiche, Battistini il gruppo c'è anche, se dimezzato, e poi Vastese e K.O. e tanta rabbia, contestatissimo il rigore nel finale che permette al Romagna Centro di vincere. E poi Favo, non ho nulla da rimproverare. Poi tornando al Girone G, Avezzano rimonta solo sfiorata, i biancoverdi battuti in casa dallo Sporting Trestina per 3 a 2 in una gara rocambolesca. Possiamo andare a vedere anche dalle pagine del centro quello che è successo ieri in Serie D con le partite che hanno riguardato le formazioni abruzzesi, Sì, soprattutto da segnalare anche il ritorno al successo dell'Aquila. L'Aquila che è andata a conquistare, formazione di Battistini, è andata a conquistare tre punti importanti in trasferta. Allora, prima di andare a vedere i titoli dal quotidiano il centro relativamente alle formazioni di Serie D, possiamo lasciare spazio nuovamente alle immagini andando a vedere proprio la vittoria corsara della formazione di Battistini. Un brutto sansepolcro, soprattutto nel primo tempo, lascia l'intera posta in palio ai rosso-blu dell'Aquila. La squadra di Pierfrancesco Battistini ottiene tre punti e per l'allenatore subentrato a Morgia nella panchina della formazione abruzzese è la prima vittoria in campionato. La prima emozione al quinto minuto, quando De Santis del Sansepolcro da metà campo quasi, vede il portiere dell'Aquila leggermente fuori dai pali e prova a sorprenderlo. Il suo pallonetto colpisce però la traversa. All'ottavo minuto la svolta della gara. Il contatto tra Beers e Noman, iniziato precedentemente forse con un fallo del centroavanti dell'Aquila e poi che finisce a terra proprio il centroavanti per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Mini Incleri che realizza con un cucchiaio. Al trentasettesimo si rivede il Sansepolcro con il traversone di De Santis, Mortaro di testa. La sua deviazione però è alta sopra la traversa. La ripresa si apre ancora al quinto minuto con Mortaro forse l'unico a meritare la sufficienza nel Sansepolcro. Mortaro dal limite si coordina e colpisce bene la palla che però è fuori dal bersaglio della porta ma non di molto. Al diciottesimo ci prova dalla distanza Terzini. Il suo tiro è potente e teso ma fuori bersaglio. Infine l'ultima emozione è quella che avrebbe potuto regalare il pari al Sansepolcro da calcio d'angolo. Terzini a botta sicura colpisce di testa ma il portiere dell'Aquila è superlativo e riesce a neutralizzare. Per il Sansepolcro è sconfitta e può esultare l'Aquila di Battistini. Dopo tante amarezze avete visto al 91esimo al tribice fischio finale l'esultanza dei giocatori dell'Aquila per questa vittoria in casa del Sansepolcro che sicuramente serve per risollevare anche il morale della formazione di Battistini. Siamo, come vi dicevo, dalle pagine del centro per andare a vedere come il centro commenta questo successo degli Aquilani. L'Aquila torna a vincere e vede i play-off. Tre punti preziosi a Sansepolcro contro la squadra che chiude la gara in nove per le espulsioni di Arboleda e Nohman. E poi Battistini al 91esimo dice successo importante dopo un periodo non facile. Siamo a fondo pagina, nella parte bassa della pagina per parlare dell'altra gara che ha riguardato il Girone G. In questo caso solo amarezze. Invece per l'Avezzano. Avezzano KO in casa con lo Sporting Trestina. 3-2 il finale, come dicevamo, recrimina per un rigore non dato. Direzione di gara contestata da parte dei Marsicani. Dunque con Roberta Di Sante possiamo andare a vedere il servizio della gara Avezzano Sporting Trestina 2-3. Non riesce a completare la rimonta l'Avezzano che sotto di tre reti trova la forza di reagire ma non di andare oltre il 2-3 contro lo Sporting Trestina che guadagna tre punti fondamentali in chiave salvezza. Nel finale concitato però la squadra di Pino Tortora si vede annullare due reti per fuorigioco e lamenta un calcio di rigore non ravvisato a leto. Ma andiamo con ordine. Moduli a specchio per i due tecnici che schierano entrambi un offensivo 4-3-3. L'indimenticato bomber Zampagna ora sulla panchina Umbra deve rinunciare al portiere Matteo Badi squalificato. Al suo posto fa l'esordio in campionato il classe 98 Filippo Buoncompagni ma recupera in difesa Nonni che rientra dalla squalifica. Tortora che deve rinunciare agli infortunati Serrago di Genova, Colombo e Murzilli decide di schierare dal primo minuto il tridente con Bittaie, Padovani e Marolda. Pronti via è gara che si mette subito in salita per i padroni di casa colpiti a freddo proprio da Nonni che riceve un traversone dalla sinistra e insacca di testa all'altezza del secondo palo. Al ventunesimo il primo episodio da Moviola che farà discutere. Leto tenta la percussione in aria dalla sinistra ma viene trattenuto. Il direttore di gara Bergamin di Castelfranco Veneto fa proseguire. Poi l'Avezzano ci prova con Deramo alla venticinquesimo conclusione a lato e due minuti più tardi con Marolda su cui è provvidenziale il recupero di Iozzia. Si passa così dal possibile 1-1 al 2-0 in favore degli ospiti quando al quarantacinquesimo Salis tra i più attivi se ne va sulla destra entra in aria e subisce il ritorno di Leto giudicato questa volta falloso dall'arbitro che decreta la massima punizione. Dal dischetto va Capitan Ceccagnoli che non sbaglia e porta i suoi al raddoppio prima dell'intervallo. E la situazione dei bianco-verdi si complica ulteriormente in avvio di ripresa. Al quinto infatti lo sport in Trestina fa anche il tris con il contropiede vincente di un Salis in giornata che dopo essersi procurato il calcio di rigore suggella la prestazione con la rete personale. Sul 3-0 in favore dei bianco-neri Umbri i giochi sembrano chiusi per l'Avezzano ma Tortora al tredicesimo della ripresa decide di giocarsi la carta Pollino che prende il posto di Marolda. E proprio il neo entrato al ventesimo si procura il calcio di rigore che Leto trasforma e che dà in là alla rimonta bianco-verde. Ora i locali ci credono e tre minuti più tardi è ancora Pollino a confezionare il traversone per la testa di Padovani che sorprende Buoncompagni e riapre i giochi. Il finale è concitato i locali cercano in tutti i modi di pervenire al pari e al 43esimo ci sarebbero anche riusciti se il direttore di gara non giudicasse la posizione di Padovani irregolare. Ma le emozioni non sono ancora finite perché proprio sullo scadere dei 90 minuti va in gol anche Bittaglie ma anche questa rete viene annullata per offside con l'attaccante che reagisce e viene spedito anzitempo sotto la doccia. Al termine dei 4 minuti di recupero a gioire è lo sport in Trestina che espugna il Dei Marsi e conquista pesanti punti salvezza. All'Avezzano non riesce la rimonta segno che doveva andare così forse troppo tardiva la reazione dei bianco-verdi che nei prossimi 15 giorni dovranno andare a Rieti per affrontare la capolista e poi in casa l'attesissimo derby contro i Cugini Aquilani le motivazioni di certo non mancheranno. Arbitro contestato non solo ad Avezzano ma anche a Vasto rabbia vastese così il centro Biancorossi ancora a K.O. 3 punti in 5 gare sconfitta in casa la formazione bianco-rossa dalla Romagna centro rigore decisivo a 4 minuti dalla fine e poi vedete in basso il presidente Bolami contesta l'arbitraggio vastese Romagna centro 1 a 2 questo il risultato finale vedete anche dal tabellino come detto gol vittoria per la formazione romagnola realizzato a 4 minuti dal termine da Ferri su Rigole andiamo a vedere dunque il servizio su questa sconfitta interna della formazione bianco-rossa sconfitta interna e destino nell'anonimato addio e residui sogni di gloria ma quante polemiche per l'episodio che ha segnato la gara vibranti le proteste bianco-rosse all'indirizzo di Panettella di Bari con i vastesi che non mandano giù più di una decisione del fischietto passa il Romagna centro per 2 a 1 scavalcando in classifica Fiore e compagni autori di un primo tempo senza sangue meglio nella ripresa ma la sensazione è che la squadra vada avanti ormai rassegnata a sopravvivere il futuro primo tempo senza prisco dirottato in panchina riferimento offensivo e Galizia con Fiore e Felici tanta confusione per i locali che spesso subiscono l'iniziativa romagnola quinto minuto già pericolosi gli ospiti con uno bello scambio Ferri Bussaglia i migliori tra gli ospiti che la difesa bianco-rossa disimpegna dodicesimo ecco il vantaggio pasticciaccio nelle retrovie ragonesi su un pallone dalla destra ecco Bussaglia che con un pallonetto preciso realizza il gol del vantaggio bastese che fa fatica a tratti anche irritante per la pochezza messa in campo le uniche occasioni pensate arrivano dagli errori altrui come il rimpallo su Galizia del portiere bianco-celeste che per poco non termina in rete oppure il regalone concesso al ventitreesimo con Brunetti che incespica e Galizia che non ne approfitta primo tempo tutto qui deludente al di sotto di ogni aspettativa nella ripresa si colora finalmente la curva d'Avalos con i tifosi che scioperano per 45 minuti in segno di protesta per i periodi bui della squadra Prisco rileva Cosenza con Felici che arretra a centrocampo tutta un'altra musica e una vastese diversa che va all'attacco secondo Di Pietro da fuori alto diciassettesimo Prisco non impatta di testa sul traversone diciannovesimo Galizia telefonato ventunesimo ecco il rigore a favore con Fiore letteralmente falciato in aria da Brunetti che si becca però solo il giallo Galizia pareggia i conti uno a uno e si assapora anche la vittoria la vastese produce il massimo sforzo Fiore va vicino al gol con un tracciante insidioso poi al trentottesimo c'è la traversa che dice no a Prisco eppure un minuto dopo ecco l'episodio chiave De Lì a distanza ravvicinata intercetta una punizione di manzo e fine in contropiede in aria subisce l'intervento di Campanella per l'arbitro in rigore la Ragona insorge per i due episodi ma Ferri mette dentro e condanna la vastese a un futuro insipido 1-2 addio a tutti i bei sogni questo è il servizio sulla sconfitta casalinga della vastese San Nicolò occasione persa contro il Pineto sabato c'era stato il derby in anticipo fra San Nicolò e Pineto con il pareggio tra le due formazioni abruzzesi e siamo al campionato di eccellenza per vedere i risultati Acqua e Sapone Morrodoro 2-0 Arbadriatica Virtusteramo 2-0 Amiternina Miglianico 3-1 Cupello San Salvo 1-2 Francavilla Riverchieti 1-1 Montorio Capistrello 2-0 Nero Stellati Pratola Martinsicuro 3-1 Penne Angolana Renato Curio 1-1 San Buceto Paterno 3-2 nonostante la sconfitta il Martinsicuro resta al primo posto con 57 punti Maile Pratola è ora a meno 1 56 punti Paterno 54 Francavilla 52 Andiamo a vedere anche la pagina che riguarda il campionato di promozione perché quella di ieri è stata una giornata importante per il Giulianova Giulianova che ha sconfitto il Balsorano per 5-0 Abbiamo qualche problema con la grafica Vediamo di recuperare tra qualche secondo la pagina relativa al quotidiano Il Centro per vedere i titoli che riguardano la promozione Vediamo un attimo Eccoci qui Real Giulianova implacabile eccellenza vicina come vi dicevo 5-0 dei giallorossi sul Balsorano e dunque promozione nel campionato di eccellenza vicina e vicina anche la promozione in eccellenza del Chieti Torre Alex che vince e prepara la festa perché domenica prossima con lo spoltore in caso di successo arriverà la promozione nel campionato superiore Andiamo avanti per arrivare Siamo praticamente in chiusura per arrivare al rugby Vittoria sofferta a Parma L'Aquila conquista la vetta per 20-19 dunque gli aquilani passano in terra emiliana e poi il basket come vi dicevo con Chieti che sciupa tutto il derby va al Roseto 110-100 per gli Sharks dopo due tempi supplementari dunque Vittoria come da pronostico sofferta in un derby in cui può accadere di tutto e poi nel campionato di Serie B l'Amatori vince trascinata da Valentini 74-42 il Giulianova paga gli errori al tiro e perde in casa per 61-51 con il Bisceglie Andiamo ancora avanti per arrivare al volley e dunque chiudere l'appuntamento di oggi con Mattino 6 recuperiamo l'articolo che riguarda il volley con la Sieco che comunque aveva giocato e vinto una gara importante in chiave salvezza ma non c'è più tempo perché abbiamo davvero sforato di qualche istante questa mattina dopo avervi proposto i servizi delle squadre abruzzesi di calcio dal Pescara fino ai servizi riguardanti la Serie D dunque siamo giunti al termine io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito Mattino 6 tornerà domani puntuale alle 7 mentre il prossimo appuntamento informativo della giornata è come sempre previsto alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per aver guardato il nostro canale e buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito